Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi ho deciso di parlarvi di H.H. Holmes, che si è guadagnato il soprannome di Dottor Morte. Da molti è descritto come il primo seriale americano della storia, ma prima di adentrarci nelle terribili gesta di H.H. Holmes, partiamo come al solito dal principio e andiamo a scoprire il suo passato. Herman Webster, Madjit, nasce a Gilmanton, nel New Hampshire, il 16 maggio del 1861, da una famiglia metodista. Il metodismo è un'espressione del protestantesimo, ossia una branca del cristianesimo moderno, che ha dato vita ad una delle chiese evangeliche più diffuse nel mondo, caratterizzandosi ovunque per profonda spiritualità, dinamismo evangelico e marcata sensibilità verso i problemi etici, politici e sociali. Il padre di Herman si chiama Levi Horton Madjit. Fa l'ufficiale postale di un uomo violento e autoritario, al quale la minuta moglie, di nome Theodate Page Price, è totalmente sottomessa. La signora Madjit fa tutto ciò che suo marito le comanda di fare, ed Herman cresce aspettandosi che tutte le donne si comportino come sua madre. Fin dall'elementare va molto bene a scuola, dimostrando una notevole intelligenza, personalità ed una capacità di influenzare le altre persone. Il suo sogno fin da bambino è quello di diventare un dottore. A partire dalla pubertà, il suo bi preferito come molti assassini, diventa quello di uccidere e smembrare animali randagi. Herman è profondamente affascinato dall'anatomia, e spesso conduce esperimenti alquanto crudeli sulle sue prede. Il grande interesse che mostra per l'anatomia, in effetti, avrebbe potuto aprirgli le porte per una favolosa carriera da dottore. Ma si rivela ben presto un alunno svogliato e un truffatore precoce. Nel 1878, all'età di 19 anni, sposa una sua coetanea di nome Clara Lovering, dalla quale ha un figlio di nome Robert Lovering Mudget. Nasce il 3 febbraio del 1880, a Loudon, nel New Hampshire. Tutto pare andare per il verso giusto, ma all'età di 24 anni, viene espulso dalla University of Medical School, dopo essere stato scoperto a rubare cadaveri nell'ambito di alcune frodi, che aveva organizzato per truffare una società di assicurazioni. Herman, infatti, ruba i corpi dal laboratorio dell'università. Li sfigura e poi cerca di farli passare come i suoi parenti morti in degli incidenti, in modo da intoscare i soldi della loro assicurazione sulla vita. Nello stesso tempo, insieme a vari complici dell'università, conduce varie frodi, denotando già quel comportamento criminale, che poi, in futuro, diventa una costante della sua vita. Holmes, a questo punto, si iscrive all'Università del Vermont, a Burlington, ma non è soddisfatto della scuola, quindi se ne va dopo un anno. Nel 1882 entra nell'Università del Michigan, nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia. A questo punto, Holmes si trasferisce a Mowers, una città nella contia di Clinton. Si sparge così la voce che Holmes sia stato visto con un ragazzino, che in seguito scompare misteriosamente. Holmes afferma che quel ragazzino sia ritornato a casa sua, in Massachusetts. Nessuna indagine ha avuto luogo e Holmes ha lasciato rapidamente la città. Successivamente si rica a Philadelphia, in Pennsylvania, dove trova lavoro come custode al Norrison State Hospital. Anche in quel caso lascia quel lavoro dopo poco tempo. In seguito viene assunto in una farmacia a Philadelphia, ma mentre lavora lì, un ragazzo muore dopo aver preso e comprato delle medicine da Holmes. Anche in questo caso l'uomo nega qualsiasi coinvolgimento con la morte di quel bambino e di nuovo lascia immediatamente la città. Arriva l'estate del 1886 e Holmes decide di lasciare sua moglie, per poi trasferirsi a Englewood, in Illinois, una località nell'area di Chicago, abitata da famiglie di ceto medio-alto, che poi negli anni viene inglobata totalmente da Chicago. Oltre alla residenza, Herman finalmente decide anche di cambiare il suo nome, diventando H.H. Holmes, o meglio, Harry Howard Holmes. Herman decide di cambiare il suo nome, perché secondo lui, H.H. Holmes suona meglio del suo vecchio nome. Ma in ogni caso è meglio evitare il più possibile di essere smascherato dalle vittime delle sue precedenti truffe. Ecco perché cambia nome. Una volta arrivato a Englewood, Holmes inizia a cercare lavoro, leggendo gli annunci su un giornale. La sua attenzione un giorno si sofferma sull'annuncio di una donna che cerca un aiutante per la sua farmacia. Quella può essere decisamente un'occasione per Holmes. Infatti la farmacia che sta sulla 63esima strada è gestita da una donna di 63 anni, di nome Elizabeth S. Halton, La donna dà un lavoro a Holmes e l'uomo si dimostra un impiegato modello, laborioso, che alla fine riesce addirittura ad acquistare il negozio. Nel 1887 Holmes, mentre è ancora sposato, si risposa con un'altra donna. Una certa Myrna Bechnap, però quello, ahimè, non è un matrimonio felice. Holmes tratta sempre Myrta con un atteggiamento di superiorità, sprezzante. La sgrida anche duramente davanti ai clienti, creando delle situazioni a dir poco imbarazzanti. Oltretutto, la donna lavora con lui in farmacia, ma Holmes la tiene ben lontana dai suoi affari. Alla fine, dopo averla messa incinta, la rispedisce dai suoi genitori, senza rivederla mai più. E senza neanche mai chiedere il divorzio. E non perché Holmes non voglia separarsi. Non è questo il punto. A Holmes, semplicemente, non gliene frega una fava, quelle sono scocciature inutili. La figlia che nasce tra Myrta e Holmes si chiama Lucy Theodate. Holmes, nella sua farmacia, vende a caro prezzo medicamenti portentosi e pozioni miracolose. Ed è proprio seguito dai guadagni ottenuti dalla farmacia. E a svariate frodi, che Holmes compra un lotto vuoto di terra di fronte alla farmacia. Ed ha inizio alla costruzione di un elegante edificio a tre piani. Aiutato, peraltro, da un altro truffatore senza scrupoli. Ossia Benjamin Pitzel, che diventa ben presto suo socio. Così, lentamente, il castello del dottor Holmes inizia a prendere forma nella stessa strada in cui è situata la farmacia. Durante la costruzione dell'edificio a tre piani, Holmes licenzia e assume centinaia di lavoratori, aducendo ogni volta scuse diverse. Altre volte si rifiuta di pagare i suoi lavoratori, provocando dei frustranti contenziosi che alla fine si concludono con nulla di fatto. Nessuno sa con precisione quando e in che circostanze Holmes abbia conosciuto il suo socio, Benjamin. Ma è altamente probabile che la loro collaborazione inizi nel novembre del 1889. Alcuni suppongono che Benjamin, un uomo dei mille mestieri, con una famiglia numerosa da mantenere e abituato a truffare e frodare il prossimo, sia in realtà il vero architetto del castello di Holmes. In realtà, a dirvela tutta, c'è un buon motivo per cui Holmes assume licenza così velocemente e così tanti lavoratori. Non vuole che nessuno si accorga del vero obiettivo per cui sta costruendo. Quell'immensa casa esteticamente davvero molto molto bella, ma al tempo stesso terribilmente inquietante. Infatti, il castello di Holmes non è nient'altro che un castello dell'orrore. Non so come altro definirlo. Vi sono stanze equipaggiate con attrezzature chirurgiche, passaggi segreti, corridoi occulti, scale che non conducono da nessuna parte, corridoi ancora più nascosti e stanze isolate acusticamente, pareti scorrevoli e persino camere a gas e forni crematori dotati di occhi magici, dei quali il dottore spia l'agonia delle sue vittime. Per liberarsene, Holmes fa cadere i corpi attraverso delle botole, fino a farli finire in una cantina segreta, dove gli attende una fossa piena d'acido per farli scomparire dalla faccia della terra. Alla malvagità di Holmes, forse, non c'è un limite. Molte stanze inoltre presentano soffitti bassi e hanno trappole nei pavimenti. Questo edificio da incubo è il vero e proprio regno di Holmes e viene completato nel maggio del 1890. Il primo piano viene occupato da negozi esclusivi, compresa la sua farmacia, che viene spostata. Ma il resto della struttura è una vera e propria trappola a mortare per chiunque vi entri. Nelle stanze del suo castello, Holmes fa pezzi le sue vittime, le scarnifica. Talvolta pratica esperimenti o conduce torture su di esse per puro diletto. La domanda a questo punto potrebbe sorgere alquanto spontanea. Chi sono i malcapitati che cadono nelle grinfie di questo terribile uomo? Sono generalmente turisti, donne che vanno a Chicago per assistere alla grande esposizione di Chicago del 1892, inaugurata per i 400 anni dalla scoperta dell'America. Tra le vittime di Holmes, però, non mancano alcuni suoi clienti e addirittura persone che lavorano direttamente per lui. L'uomo si diverte parecchio a colpire le sue vittime per poi approvvigionare di corpi freschi le scuole mediche che lo pagano pure alquanto profumatamente per ogni corpo. In altri casi elimina tutte le carni delle sue vittime sulla sua tavola di dissezione. Gli scheletri delle varie vittime poi finiscono in esposizione nelle varie università di medicina. Nel 1890 l'impero di Holmes, ancora trentenne, e nel pieno delle forze è in continua crescita. Così il dottore emette un annuncio sui giornali alla ricerca di una specie di manager che lo aiuti nel gestire il suo imperio economico. A suo annuncio risponde un certo Ned Connor, un uomo a dirla tutta molto simile al socio di Holmes, Benjamin. Anche lui passa da un lavoro all'altro molto velocemente trascinando con sé moglie e figlia. Quando Ned risponde all'annuncio viene assunto da Holmes che a quel punto pensa di stare a posto. Tutti i suoi problemi a quel punto crede siano finiti. Ma in realtà non va esattamente così. Ned è sposato con Julia Smith una donna bellissima alta dagli occhi verdi. Insieme hanno una figlia di nome Pearl. Holmes ne rimane subito piacevolmente colpito tanto che licenzia immediatamente il suo cassiere per far posto a lei. Holmes punta tutte le sue attenzioni su Julia anche se in realtà è sposata con Ned. In breve tempo diviene chiaro a tutti che lei e Holmes siano diventati amanti insomma. Ned fa finta di niente accettando in silenzio l'infedeltà della moglie come il prezzo da pagare per aver finalmente trovato un ottimo lavoro. Un giorno però in un bar li vicino tutti i suoi amici gli fanno notare ciò che lui già sa ossia sua moglie è diventata l'amante di Holmes e non fa nulla per nasconderlo. A questo punto Ned sentendosi profondamente umiliato decide di affrontare questo discorso con Julia. La donna inizialmente con Ned nega la relazione ma alla fine messa dinnanzi all'evidenza ammette di essere l'amante di Holmes ma non è finita qui. Julia si prende il gioco di suo marito dicendogli che rispetto a Holmes lui non vale niente gli dice che Holmes la ama è bello è curato è intelligente un uomo di successo insomma tutto ciò che lui non è. La discussione tra i due prosegue per un paio d'ore poi a un certo punto Ned stufo marcio decide di andarsene a dormire in salotto. Julia continua ad essere l'amante di Holmes fregandosene allegramente del marito e ad un certo punto rimane anche incinta di Holmes Julia Ned a questa notizia abbandona il castello di Holmes e fa domanda per il divorzio dopo aver trovato un'altra donna Pearl rimane al castello con Julia e Holmes Julia però ovviamente nel frattempo se ne sbatte altamente di ciò che fa suo marito non gliene frega proprio una fava si è legata così tanto a Holmes da essere diventata quasi una minaccia per i suoi luschi affari un giorno Holmes parla con Julia e le dice che l'avrebbe presa in sposa se lei avesse abortito Julia non è poi così tanto d'accordo però alla fine accetta per amore di Holmes e dato che il suo innamorato le ha sempre detto di essere un dottore Julia immagina che abbia già praticato altre volte degli aborti ecco perché si affida ciecamente alle sue mani il 4 dicembre del 1891 Julia accetta di effettuare l'aborto chiedendo a Holmes di praticaglielo e Holmes in realtà è lì che si sfrega le mani e non aspetta altro conduce la donna in una stanza buia al primo pieno dell'edificio all'interno della quale vi è un grezzo tavolo operatorio su cui fa stendere Julia Holmes poco dopo narcotizza la donna facendo morire sia lei che il bambino che porta in grembo anche sua figlia Pearl ahimè non fa una bella fine una delle persone che ha lavorato per Holmes è un certo Charles M. Mapple l'uomo ha partecipato ai lavori del castello fin dal 1889 e continua a lavorarci Charles ha lavorato nell'edificio della Binet Medical School e curioso di natura pur non essendo il suo mestiere osservando il lavoro degli altri ha acquisito un'insolita abilità ad articolare scheletri destinati all'esposizione Holmes consapevole di questa sua abilità circa due settimane dopo aver fatto fuori Julia lo convoca nel suo studio chiedendogli se per caso desidera ricevere un consistente premio in soldi in cambio di un favore Charles risponde affermativamente e Holmes gli dice che gratirebbe utilizzare la sua abilità nell'articolare scheletri Charles e Holmes vanno verso la buia sala operatoria dove sul tavolo operatorio giace un corpo completamente spellato con grosse quantità di carne già sportate Charles ironizza sul fatto che sembra un coniglio spellato ignorando la raccapricciante verità quelli sono i resti dell'ex cassiera Julia ormai è misteriosamente scomparsa con sua figlia da qualche settimana Charles pensa semplicemente che quello è un corpo su cui il dottor Holmes ha eseguito un'autopsia di conseguenza è ben felice di partecipare trappando via tutta la carne rimasta e articolando lo scheletro pronto per essere esposto per quel lavoro Holmes gli offre 36 dollari dopodiché vende lo scheletro a Lehman Medical College per ben 200 dollari è un certo dottor Pauling ad essere rapito da quello scheletro e a decidere di metterlo nel suo studio privato il dottore rimira più volte quello scheletro durante la giornata chiedendosi per chissà quale motivo sia venuta a mancare quella donna parto tubercolosi attacco cardiaco il dottore passa intere giornate a fantasticare su quello scheletro mostrandolo con orgoglio ai suoi visitatori anche perché quello è uno scheletro di una donna alta un metro e 82 non solo è molto raro ma è anche articolato benissimo un'altra vittima del dottor Holmes è Emeline Singrand una stenografa di Lafayette in Indiana a partire dal luglio 1891 la donna lavora a Dwight in Illinois in un sanatorio per alcolizzati in quel periodo in quello stesso sanatorio si trova anche Benjamin il socio di Holmes nonché suo complice in svariate truffe e forse anche nella progettazione del castello Benjamin rimane affascinato da Emeline è una donna molto bella così si avvicina a lei e le parla del suo lavoro con un uomo bello e ricco ossia Holmes Benjamin successivamente parla della sua nuova conoscenza al suo socio il quale decide di scrivere a quella ragazza offrendole un lavoro nel suo castello e promettendole un guadagno mensile superiore al 50% rispetto a quello che la donna percepisce al sanatorio Emeline ovviamente data l'offerta vantaggiosa accetta e si stabilisce presso una pensione a poche centinaia di metri dal castello di Holmes Holmes ben presto inizia a sedurre Emeline le fa fare gite turistiche per Chicago fa il galante le compra dei fiori le offre delle cene le compra tanti gioielli e la ricopre di complimenti Emeline alla fine si innamora e quindi decide di scrivere una lettera alla famiglia parlando del suo nuovo innamorato che presto l'avrebbe sposata Holmes tuttavia le raccomanda di usare uno pseudonimo al posto del suo vero nome in modo da non rovinare il suo imminente divorzio con Mirta ovviamente Holmes racconta delle belle frottole alla donna in quanto Mirta è già fuori dalla sua vita da un bel po' di tempo tuttavia Emeline ci casca scrivendo di aver conosciuto un certo Robert E. Phelps un uomo ricco e bello che presto l'avrebbe sposata e poi portata in un lungo viaggio di nozze in giro per il mondo qualcuno in effetti mette in guardia la donna dicendole che Holmes non è esattamente ciò che vuole sembrare ma Emeline non vuole sentire ragioni ormai ne è innamorata e vuole andare fino in fondo sicura di aver trovato l'uomo della sua vita Holmes in questo caso progetta di far fuori Emeline non per profitto ma per sua libidine infatti solo attraverso la sofferenza Holmes riesce a raggiungere l'apice del piacere e ha intenzione di usare Emeline per il suo esclusivo e intenso piacere un giorno del 1892 Holmes chiede ad Emeline di recuperargli delle buste dalla camera blindata la donna scatta immediatamente per eseguire la richiesta dicendo certamente una volta entrata nella camera blindata Emeline prova a cercare queste buste mentre la luce dall'altra stanza si spegne la giovane non si accorge che Holmes ha chiuso la porta della camera blindata fino a quando non si ritrova completamente immersa nel buio tanto da sbattere la faccia contro il metallo della porta la ragazza si rende conto di colpo che la sua vita è in pericolo e rischia una delle peggiori di partite possibili soffocando lentamente in quella stretta e buia camera blindata Emeline comincia ad urlare e man mano che i secondi scorrono le sue grida si fanno sempre più profonde più disperate Holmes sente le vibrazioni delle sue urla appoggiando l'inguine alla porta è in questo modo che l'uomo comincia a provare piacere esaltato dal potere di vita o di morte che ha su quella ragazza presa dal panico urla e sbatte sulla porta come un animale in gabbia l'uomo inizia a usare la sua mano per raggiungere il massimo piacere ascoltando le grida di quella povera ragazza dopo aver provato un intensissimo piacere l'uomo torna a lavorare e in sottofondo ancora sente le grida e il pianto di Emeline che durano ore fino a tramutarsi in un rassegnato silenzio dopo averla tenuta rinchiusa un tempo sufficiente per farla morire Holmes riapre la camera blindata e porta il corpo di Emeline nella sala operatoria dove lo priva completamente della pelle di numerosi pezzi di carne prima di preparare un ennesimo perfetto scheletro insieme a Charles M. Chappell lo scheletro di Emeline Syngard viene venduto al LaSalle Medical School però ahimè Julia ed Emeline non sono le uniche donne a lavorare per Holmes e venire a mancare altre pur non intraprendendo con Holmes una relazione sentimentale subiscono la stessa fine d'altro canto uno dei requisiti fondamentali per lavorare per Holmes è firmare una pollizza assicurativa sulla vita di 5.000 dollari sia mai che possa tornare utile Holmes colpisce in gran quantità sia uomini che donne che affittano stanze nel suo castello se c'è da farci soldi ad esempio un giorno al castello di Holmes arriva una signora di nome Pansy Lee lei è una vedova di New Orleans e si trova a Chicago per turismo Holmes viene a scoprire che la donna in un doppio fondo del suo baule nasconde 4.000 dollari quindi Holmes cosa fa? propone alla donna di mettere il baule nella camera blindata pianificando poi di chiuderle la porta alle spalle come ha già fatto in tante occasioni ma la donna non accetta l'offerta senza darsi per vinto quindi Holmes colpisce la donna la fa fuori e carbonizza il suo corpo nel forno crematorio che tiene nelle sue stanze segrete Holmes a questo punto può impossessarsi dei 4.000 dollari senza fretta si presenta un'altra occasione per Holmes quando si approfitta dei problemi di infedeltà e della complicità di un suo servitore per avere altri tre corpi da vendere infatti un certo Pat Quinlan che lavora al castello ha una relazione extra coniugale con una sua collega ma c'è un problema presto la moglie che vive in Ohio sarebbe andata a fargli visita e l'amante peraltro dall'uomo ha ricevuto anche una figlia minaccia di dire tutto a sua moglie per evitare che le due donne si incontrano Pat decide di nascondere l'amante sua sorella e loro figlia nella segreta camera gas in quanto all'apparenza quella sembra una stanza normalissima peccato che le malcapitate vengano asfissiate e i loro scheletri vengano venduti poi tra un crimine e l'altro ecco che Holmes si innamora e questa volta sembra non intenzionato a far fuori la sua preda la ragazza in questione si chiama Georgiana Yock ed è anche lei in visita a Chicago per turismo per attirare la sua attenzione Holmes si inventa mille bugie e alla fine riesce a instaurare con lei un rapporto sentimentale quando lui le chiede la mano lei accetta di sposarlo senza avere la minima idea che Holmes sia già stato sposato con due donne ha più di un figlio e un amante da almeno un anno una certa Minnie Williams Holmes e Georgiana fissano la data del matrimonio nel 1893 ma nel frattempo i creditori cominciano a farsi sotto e a minacciare il dottore di togliergli il suo amato castello infatti mantenere quell'enorme struttura costa più di quanto gli affari illeciti gli fanno guadagnare l'uomo sentendosi con le spalle al muro pianifica una rapida ritirata con la sua futura sposa Georgiana e con l'amante Minnie dopo qualche settimana che Georgiana ha accettato la proposta di matrimonio di Holmes Pat Quinlan dà fuoco al castello distruggendolo per la maggior parte Holmes ovviamente ha previsto di lucrarci in qualche modo sopra avendo assicurato un edificio con molte società per un totale di 25.000 dollari peccato che un investigatore particolarmente acuto mandi a monte il piano per aver notato che l'incendio è partito da diversi punti quindi è doloso Holmes non viene accusato di nulla è libero tuttavia dalle assicurazioni non può incassare un solo dollaro dopo aver fallito il suo piano l'uomo senza darsi per vinto cerca immediatamente di escogitare altre frodi e convince il suo ormai ex socio benjamin a partecipare a un progetto di truffa che avrebbe segnato la fine della sua famiglia benjamin però non può saperlo secondo il piano benjamin avrebbe dovuto stipulare un'assicurazione sulla vita per 10.000 dollari presso la fidelity mutual life of philadelphia poi Holmes avrebbe simulato la sua ripartita a morire al posto di benjamin sarebbe stato qualcuno fisicamente simile a lui al quale sarebbe stato sfigurato il volto per renderlo irriconoscibile il piano comporta che benjamin si nascondi senza dire nulla alla famiglia ma quest'ultimo non può andarsene senza dire nulla a sua moglie quindi decide di raccontarle del piano la donna è turbata e prevedendo il terribile pericolo a cui sarebbe andato incontro suo marito lo prega di cambiare idea l'uomo però ormai ha deciso le dice che se avesse letto sui giornali della sua morte non avrebbe dovuto crederci dopodiché lascia Chicago nel frattempo i creditori di Holmes convinti dell'ipotesi dell'incendio doloso si procurano un avvocato minacciando l'insolvente di denunce penali il 22 novembre del 1893 Holmes si ritrova sull'orlo della bancarotta quindi decide di scomparire momentaneamente per poi rispuntare l'8 gennaio 1894 a Denver dove finalmente si sposa con Georgiana usando per entrambi un falso nome Georgiana diventa Mears Henry Mansfield Howard dopo il matrimonio la coppia si sposta in Texas a Footworth dove si rincontra con Benjamin è proprio in questo momento che Minnie Williams scompare nel Texas nella sua terra d'origine per di più un'altra vittima di Holmes in Texas Holmes e Georgiana cambiano nuovamente nome diventando Mr. e Mrs. Pratt con il nome di Pratt Holmes e il suo assistente Benjamin si rendono artefici di altre frode in Texas per poi continuare a girovagare negli Stati Uniti rubando e truffando passano da New York a Philadelphia da Memphis a Denver fino a St. Louis qui Holmes tenta di truffare la Maryle Drug Company un'azienda farmaceutica secondo uno schema già sperimentato a Chicago questa volta però Holmes non ha fortuna e per la prima volta nella sua vita finisce in prigione lasciando la moglie ad attenderlo lì in lacrime durante il suo soggiorno in prigione Holmes conosce Marion Higipit un criminale incallito e definito da molte persone come una persona malvagia Holmes chissà perché come mai con l'uomo si trova immediatamente in sintonia forse note in lui una certa somiglianza con se stesso il rapporto tra i due si intensifica così tanto che Holmes abbassando le sue difese rivela a Marion la truffa alle assicurazioni che ha intenzione di fare con l'aiuto di Benjamin il suo socio Marion dietro alla promessa di 500 dollari di ricompensa dà ad Holmes il nome di un avvocato corrotto che l'avrebbe sicuramente aiutato nella realizzazione del suo piano a questo punto tutto è pronto per passare all'azione mentre Holmes attende di uscire di prigione Benjamin si reca a Philadelphia e apre un ufficio di brevetti fasullo affitta in seguito un piccolo appartamento e attende che il piano si realizzi Holmes poco dopo esce di prigione e si incontra a St. Louis con Jepta Howe l'avvocato che gli ha consigliato Marion l'avvocato si sarebbe preso cura dei dettagli della frode quindi Holmes e sua moglie Georgiana partono per Philadelphia arrivata a Philadelphia Holmes fissa un incontro con Benjamin che poi però annulla in un secondo momento in quanto non gradisce il luogo Benjamin rimane deluso del mancato incontro ma presto Holmes gli chiede di incontrarsi direttamente nella sua stanza quella ahimè è l'ultima volta che Benjamin parla con il suo fidato d'attore di lavoro il giorno seguente Holmes segue Benjamin e lo vede entrare in una taverna locale per bere Benjamin si ubriaca e quando esce dalla tavola calda Holmes silenziosamente lo segue fino al suo appartamento Benjamin dopo qualche tentativo fallito riesce ad aprire la porta d'ingresso di casa sua e Holmes spunta dall'ombra e con un fazzoletto imbevuto di cloroformio gli fa perdere i sensi rapidamente Holmes prende dalle sue tasche delle fiale con dentro delle sostanze chimiche le rompe e le versa velocemente sul viso di Benjamin al contatto con la pelle a questo punto la fisionomia di Benjamin risulta completamente distrutta e la sostanza usata per sfigurarlo è la nitroglicerina Holmes infine sistema il corpo di modo che il viso venga colpito dai raggi del sole che sarebbero spuntati l'indomani mattina in modo da garantire una decomposizione ancora più rapida che avrebbe quindi reso il viso di Benjamin ulteriormente riconoscibile la mattina successiva Holmes e sua moglie Georgiana partono per Indianapolis dove Holmes nei giorni successivi controlla tutti i giornali per vedere se la morte di Benjamin sia stata scoperta alcuni giorni dopo finalmente arriva la notizia quindi Holmes saluta sua moglie per tornare a Filadelfia e quindi concludere il suo piano quando la notizia della morte di Benjamin appare sui giornali sua moglie Carrie diventa molto nervosa nonostante una delle sue tre figlie tenti di calmarle in ogni modo ricordandole che il papà aveva detto a tutti di non preoccuparsi se avessero letto sul giornale della sua morte l'arrivo di Holmes a Filadelfia non può avvenire in un momento migliore di quello Carrie la moglie di Benjamin ha letteralmente un collasso davanti a Holmes che la trascina nella sua stanza sgridandola per non aver fiducia in quello che le aveva detto Benjamin Holmes dice chiaramente che suo marito mica è morto a questo punto Carrie si convince e si calma però per il riconoscimento del corpo serve un parente seppure Holmes è il beneficiario dei 10.000 dollari l'uomo convince Carrie a far andare lui e sua figlia di 15 anni di nome Alice così Holmes ed Alice si presentano alla società di assicurazioni con la procura di Carrie la moglie di Benjamin sono già passati dei giorni dalla dipartita di Benjamin e quindi l'uomo è già stato sepolto tuttavia viene mandato un'ordinanza affinché venga riesumato per procedere all'identificazione gli agenti assicurativi sentono che c'è qualcosa che non va ma decidono di non indagare oltre la polizia alla fine ha fatto un rapporto di morte accidentale ma quello che preoccupa di più gli agenti assicurativi è che Benjamin ha effettuato i pagamenti all'agenzia di assicurazione soltanto due giorni prima di morire nonostante tutto lo sguardo triste e pietoso di Alice li convince a non procedere per chiedere ulteriori indagini il coroner porta ad Alice il corpo di Benjamin coprendo nel viso malamente sfigurato Alice è spaventata e nervosa quindi si stringe a Holmes per avere del supporto morale il coroner chiede ad Alice se per caso il padre aveva alcuni elementi distintivi Alice risponde una cicatrice sul ginocchio e un neo sul collo il coroner mostra le due parti del corpo e Alice fa sì con la testa entrambe le volte poi aggiunge questo è il mio papà io lo posso vedere anche dalle mani scoppia a piangere mentre Holmes impassibile alza la copertura sulla faccia di Benjamin e dice sì questo è Benjamin Pizzol ha lavorato per me per un certo periodo al termine dell'identificazione Holmes accompagna Alice a Indianapolis da sua moglie lui invece con Carrie Pizzol la moglie di Benjamin si reca a St. Louis dall'avvocato Jepta Howe che chiude l'affare Carrie torna a casa con 500 dollari dei 10.000 dell'assicurazione del marito e Holmes la convince anche a lasciargli i suoi figli si sarebbero anche loro ricongiunti con Alice in Indianapolis in maniera da poter vivere tutti insieme in una famiglia ricca Carrie quindi torna a Galva in Illinois e lascia i suoi tre figli a Holmes intanto la società dell'assicurazione truffata riceve una lettera da un certo Marion Higipat che l'informa della frode subita e sebbene Marion in base a quanto è riferito gli da Holmes dica che il cadavere non sia di Benjamin le agenti assicurative rimangono convinti che si tratti realmente di Benjamin per indagare sul caso viene nominata la Pinkerton Detective Agency Marion rivela tutto perché Holmes da truffatore qual è non gli aveva consegnato la percentuale promessa questo è un errore che a Holmes costa molto molto caro i detective dell'agenzia Pinkerton cominciano ad accumulare una grande quantità di informazioni sulle frodi commesse da Holmes praticamente ovunque Chicago Texas davvero ovunque ecco perché a questo punto decidono di inseguirlo passo a passo seppur con una certa difficoltà dato che l'indiziato cambia continuamente città insieme ai tre bambini nell'evidente tentativo di seminare chiunque abbia intenzione di seguire le sue tracce finalmente a Boston con l'aiuto di Frank Geer un veterano della polizia Holmes viene arrestato i detective intercettano una lettera che Holmes scrive a Carrie in cui le raccomanda di rimuovere dalla cantina delle bottiglie contenenti delle costose sostanze chimiche Carrie non lo sa ma quelle bottiglie sono piene di nitroglicerina la sostanza usata per sfigurare Benjamin Holmes si sta imbarcando per l'Europa quindi gli agenti capiscono che devono agire in fretta Frank Geer aiuta i Pinkerton a circondare Holmes e ad arrestarlo con le iniziali accuse di cospirazione e frode poco più tardi anche Carrie viene arrestata e condotta a Philadelphia proprio per aver preso parte alla truffa per Holmes a questo punto è finita in breve tempo esce fuori tutta la verità comincia Carrie a parlare ancora convinta che suo marito sia vivo ma quando la donna viene a sapere dalla polizia che in realtà Benjamin non c'è più urla contro Holmes tutta la sua rabbia vuole sapere che fine abbiano fatto i suoi figli nonostante Holmes asserisca che i ragazzini sono tutti da una ricca signora in Inghilterra per gli inquirenti è subito chiaro che anche loro sono stati fatti fuori durante i loro continui viaggi tra una città e l'altra la conferma di questa situazione arriva poco tempo dopo con il ritrovamento dei corpi a Toronto in Canada asfissiati anche loro con il gas la moglie di Holmes Georgiana comincia a cospirare con la polizia dopo aver scoperto che il marito è bigamo l'uomo è già accusato di quattro omicidi ma è chiaro che quella non è altro che la punta dell'iceberg infatti spezzonando il suo vecchio castello andato in parte distrutto la polizia scopre numerosi scheletri interi e una gran quantità di ossa semi carbonizzate nonostante le importanti prove contro di lui Holmes si dichiara innocente dice di non aver nulla a che fare con quei crimini evidentemente commessi da qualcun altro intanto i giornali parlano apertamente di camere e degli orrori per la precisione il Chicago Tribune esce con un importante titolo che recita il castello in realtà è una tomba nessuno sa di preciso quante siano le vittime di Holmes la polizia di Chicago ne calcola inizialmente approssimativamente 150 mentre Holmes successivamente confesse in modo dettagliato tutti i suoi crimini e scrive addirittura una monografia sul caso interrogato dal suo avvocato in proposito risponde di aver fatto fuori 133 persone Herman Webster Mudgett o se preferite H.H. Holmes viene processato nell'autunno del 1895 e condannato a morte tramite impiccagione la cosa assai curiosa è la bramosia di dinero di Holmes che non termina dietro le sbarre dato che vende la sua monografia per 10.000 dollari nonostante ormai gli rimanga poco tempo da vivere e zero possibilità di godersi coi soldi impaurito dai profanatori di tombe che avrebbero potuto trafugare il suo cadavere per soldi prima di morire Holmes lascia precise disposizioni non vuole sia effettuata un'autopsia sul suo corpo inoltre istruisce gli avvocati per assicurarsi che la sua bara sia riempita di cemento le richieste vengono accettate Holmes è sepolto all'Holly Cross Cemetery dentro una tomba riempita dal cemento e senza rapide sebbene il suo nome sia scritto nel registro del cimitero il giorno dell'esecuzione di Holmes è stata il 7 maggio 1896 prima dell'esecuzione Holmes riceve la visita di due preti cattolici che gli concedono la comunione nonostante Holmes si sia rifiutato di pentirsi per i suoi peccati dopo la sua morte i suoi avvocati respingono l'offerta di 5.000 dollari per il suo corpo e rifiutano che gli venga asportato il cervello per motivi di studio come richiede il Philadelphia's Wistar Institute il castello degli orori di Holmes rimane per un certo periodo un'attrazione per gli abitanti fino a quando non viene distrutto definitivamente da un altro incendio misterioso una volta passato del tempo dalla morte di Holmes si è provata a quantificare con più precisione le possibili vittime pur non potendo stabilire un numero preciso considerando i numerosi turisti che avevano affittato delle camere nel suo castello soprattutto durante la World's Fair ossia la grande esposizione di Chicago si presume si possano raggiungere cifre come 200 V detto questo ragazzi io non conoscevo questo simpatico fuori di melone l'ho conosciuto se non mi sbaglio tramite American Horror Story inconsapevolmente perché se non mi sbaglio in una stagione c'è H.H. Holmes ed è interpretato da Ivan Peters bravissimo tra l'altro ma Ivan Peters per me è sempre bravissimo quindi piccola parentesi tonda che chiudiamo onestamente mi ha stupito molto la storia di questo serial assassino e sono curiosa assolutamente di sapere la vostra opinione conoscevate il castello degli orrori di H.H. Holmes questa storia l'ho trovata in qualche modo intrigante interessante ecco perché ho deciso di raccontarvela e anche perché in molti me l'avete chiesto comunque in questi mesi spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento e vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi